La Juve torna su Dazn Commento tecnico e con diletta le 8 in campo dalle 20,45 con Mauro Geronica Moranesi a introdurre e poi analizzare la partita . Cristiano Ronaldo i compagni avevano già giocato su Dazzi Navarro, alla seconda giornata di campionato . Sempre mercoledì Dazzi trasmette a partire dall'ovolta Moro Marcosimone, e la fronte di Ricky Buscaglia con Massimo Donato e seconda voce . Mentre giovedì sera è il Castellami di Tempoli ad ospitare le telecamere del nuovo network per il match tra i padroni di casa e il milano . Ai microponi per Luigi Pardo e Roberto Cravello, a lungo in coppia a mindset . Ricordiamo che Daz non si vede sul classico canale televisivo . Ma su un'app che deve necessariamente avere un collegamento a internet per la Smart TV, Samsung LG, i tablet, i cellulari, i computer, Apple TV, Xbox, Chromecast, televisione. . A ogni account è possibile associare sei dispositivi, due del quali utilizzabili in contemporaneo. . . .